Per la prima volta a Napoli, al Mercadante, è uno spettacolo che può essere seguito anche dagli spettatori non vedenti e non udenti. Tutto parte dalla storia vera dell'autrice, il servizio di Francesca Coppola. Primo esempio di spettacolo teatrale accessibile, Laura Pertutti, regia di Lindo Nudo, fa tappa fino a domenica al ridotto del Mercadante di Napoli. Novità assoluta della pièce, la fruibilità per lo spettatore con disabilità sensoriale, quindi per non vedenti e non udenti, grazie all'audiodescrizione associata ai sottotitoli. Protagonista è una donna che perde la vista e la Laura, che sulla scena è interpretata da Elena Fazio, è nella realtà Laura Raffaelli, autrice della sceneggiatura insieme a Lindo Nudo. Una storia molto comune, io sono uscita per andare a lavorare, sono stata investita e sono rimasta cieca per sempre del tutto, ho perso metà dell'udito. E' una cosa, non sono stata ancora risarcita eppure sono passati dieci anni, è una storia molto italiana. Sul palco scorrono scene di vita quotidiana, il rapporto con la fredda e spesso inadeguata tecnologia che aiuta i non vedenti, la presenza dell'inseparabile cane guida, lo spartiacque che divide il prima e dopo l'incidente. Riprodotto in miniatura è il momento che ha cambiato per sempre la vita della protagonista. Laura Raffaelli lo descrive così. E' stato un attimo in cui si muore, lo spettacolo dice anche questo, si muore e si rinasce.